Nella settimana che va dal 16 al 22 di ottobre del 2023, gli affezionati di Beautiful sono destinati a vivere momenti di intensa emozione. L'aria di Monte Carlo risplende del calore di Steffi e Finn, che dopo tempi tormentati, si trovano ora a riscoprire la profondità e la passione del loro legame. Non distante da loro, un lussuoso hotel FA da cornice all'attesa di Ridge, Taylor e Dei loro bambini, impazienti di riabbracciare la coppia innamorata. Finn, con profondità d'animo e trasparenza, svelerà a Steffi il labirinto di eventi e decisioni che ha spinto Lee Finnegan a tenere nascosto un segreto così cruciale sulla sua condizione fisica. E come in ogni buona trama, ci sono svolte inaspettate. Prima di immergerti in questo video, assicurati di iscriverti e di attivare le notifiche. Grazie. Bill, solitamente ritratto come l'antagonista, si rivela inaspettatamente come l'eroe non celebrato dietro al riavvicinamento tra Steffi e Finn, liberando quest'ultimo dalle manipolazioni dell'astuta Sheila. Questa donna, ormai nella mira delle forze dell'ordine, bussa disperatamente alla porta di Deacon sperando in un rifugio. Ma Deacon, con una rinata integrità e determinazione, la respinge con fermezza, pensando al rispetto e alla fiducia che si è guadagnato da Brooke e Hope. Nel frattempo, la Forrester Creations si anima con l'arrivo di Deacon, i cui occhi brillano di orgoglio mentre osserva i bozzetti artistici realizzati da sua figlia. Colta da un impeto d'affetto e voglia di condivisione, la giovane disegnatrice immortala un tenero momento con i suoi genitori, decidendo poi di condividerlo sui social. Ma il vento porta scompiglio. Ridge, intravedendo quella foto, viene assalito da un turbinio di gelosia e sentimenti contrastanti. E, tra i romantici vicoli del Principato di Monaco, si lascia andare in un passo falso, tradendo Brooke con l'Evergreen Taylor. Il 16 di ottobre del 2023 vede Monte Carlo illuminarsi di speranza. Taylor e Ridge sono avvolti da un'aura di felicità, cullati dall'inaspettato destino che avvolge Finn e Steffi. Tuttavia, l'ombra della preoccupazione di Ridge per l'elusiva Sheila Carter è palpabile. Quest'ultima, sempre pronta a sorprendere, cerca rifugio da Deacon, esigendo un posto sicuro. Deacon, in un misto di rabbia e incredulità, la confronta per il presunto male fatto a Finn e Steffi, ma viene fermato da una rivelazione stupefacente. Finn non è morto. Così, Deacon viene trascinato in una trama complicata, apprendendo dell'astuto piano messo in atto da Sheila e Lee. Ma, malgrado la sconvolgente verità, decide di proteggere la propria vita, rifiutando ospitalità a Sheila. Nel frattempo, tra le luci scintillanti di Monte Carlo, Finn e Steffi riscoprono la magia del loro legame, celebrando il miracolo del loro incontro. Il giorno successivo, il 17 di ottobre, l'appartamento di Deacon è pervaso da una tensione quasi tangibile. Il tenente Baker bussa con determinazione, cercando risposte. Nel silenzio opprimente, Sheila lancia a Deacon uno sguardo implorante, mentre lui tenta di mascherare la sua crescente ansia. Nel frattempo, sullo sfondo romantico di Monaco, Taylor e Ridge, ancora ignari del ritrovamento di Steffi da parte di Finn, si perdono in un abbraccio carico di emozioni e ricordi. La decisione di Deacon di occultare Sheila culmina in una recita magistrale di fronte a Baker. Ma, una volta svanita la minaccia della legge, Sheila emerge trionfante, esultando nel suo continuo gioco di inganni. Lontano da questi intrighi, Hope, circondata dal suo team, esprime con entusiasmo la sua gioia per il favorevole destino di sua sorellastra. Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora proseguiamo con il video. Il 18 di ottobre del 2023 risplende di incredulità e rivelazioni. Mentre Steffi rimane ancora sbalordita dal ritrovamento miracoloso di Finn, Brooke, in uno stato di ansia, tenta di raggiungere suo marito, ignara del suo ritrovo con Taylor. Nel frattempo, Deacon, con gli occhi ardenti di accusa, etichetta Sheila come una criminale, sfidandola sul motivo per cui dovrebbe mettere in gioco la sua libertà per proteggerla. La risposta di Sheila è tagliente, un promemoria dei momenti in cui lo ha sostenuto quando il mondo si era voltato contro di lui. Mentre il confronto si intensifica, Deacon, soffocato dalla rabbia, abbandona Sheila e i suoi tormenti. Altrove, Finn e Steffi, illuminati da una gioia sconfinata, si uniscono a Ridge e Taylor. E nel bel mezzo di un vortice di emozioni, Finn si apre, delineando l'oscura trama che lo ha portato dalla morte alla vita. Un viaggio dal buio alla luce segnato dalla determinazione di Lee e dall'oscura presenza di Sheila, culminato con l'inaspettato intervento di Bill Spencer. Il giorno seguente, il 19 di ottobre, un'aura di tensione si snoda attraverso monaco. Ridge, combattendo con le proprie emozioni, fa finalmente quel tanto atteso squillo a Brooke, che, con un tono misto tra sollievo e rimprovero, svela di essere già al corrente delle incredibili vicende. La conversazione, pervasa da sottintesi, ruota attorno alla sempre insidiosa Sheila, che è scomparsa di nuovo nel nulla. Nel mezzo di questo vortice emotivo, Finn confessa a Steffi il suo rammarico per aver accolto Sheila nella sua vita, e le rivela le ragioni per cui Lee ha mantenuto il segreto sulla sua apparente dipartita. Ma proprio quando le cose sembrano trovare un equilibrio, un bussare alla porta segnala l'arrivo di Taylor con i piccoli Kelly e Hayes, introducendo un nuovo livello di complessità. Intanto, in un luogo lontano, Brooke mette Hope in guardia sulla minaccia incombente di Sheila Carter, esortandola a rimanere sempre vigile. Venerdì, 20 di ottobre del 2023, Monte Carlo si tinge dei colori autunnali, mentre gli eventi tumultuosi, tra le famiglie di Forrester e Logan, danno vita a nuove dinamiche. Brooke, sotto un cielo velato di nuvole, confida a Katie l'incredibile ruolo che Bill ha avuto nel riunire Finn e Steffi. La loro chiacchierata viene interrotta dall'arrivo di Hope e Deacon, con lui che lancia uno sguardo approfondito e ammirato ai nuovi bozzetti della HFTF, mentre le luci del tardo pomeriggio si riflettono sul vetro della stanza. In un angolo appartato della città, Taylor, colta da un impulso spontaneo, scatta una foto tenera della sua famiglia, condividendola poi sui social, dove riceve numerosi cuoricini e commenti. Brooke, notando la foto, F.A.I. notare a Hope il significato profondo di quella condivisione. In risposta, Hope, illuminata da una luce dorata, realizza un selfie con i suoi genitori, accompagnandolo con una didascalia che parla d'amore e di unità. Intanto, sulla sabbia. Adorata della spiaggia di Monte Carlo, Steffi e Finn rinnovano le loro promesse, mentre i bambini giocano alle loro spalle e le onde accarezzano dolcemente la riva. Ma il sereno viene interrotto quando Ridge confessa a Taylor il suo crescente disagio verso Brooke, culminando in un bacio passionale che risveglia vecchie emozioni. Sabato, 21 di ottobre, mentre la brezza marina soffia delicatamente e i gabbiani volteggiano nel cielo di Monaco, Hope si perde nei suoi ricordi, tornando ai giorni difficili della sua separazione da Beth. Le strade del principato vedono Taylor e Ridge riflettere sul bacio appassionato del giorno prima. Tornati alla realtà, Brooke non riesce a trattenere il suo disappunto nel vedere il selfie di Hope, mentre le luci della stanza proiettano ombre sul suo avviso. Le discussioni tra le Logan si intrecciano con i complicati sentimenti tra Brooke e Ridge, con le promesse e i ricordi che si scontrano in un tourbillon di emozioni. E, mentre il tramonto avvolge Monte Carlo in una luce arancione, Hope, con un cuore pesante, decide di cancellare il suo post, simbolo della transitorietà delle emozioni umane. Domenica, 22 di ottobre del 2023, mentre le foglie autunnali iniziano a ricoprire le strade di Los Angeles. Finn e Steffi, seduti in una confortevole lounge dell'aeroporto, sognano il momento in cui varcheranno la soglia di casa. Le loro mani intrecciate riflettono l'intensità dei sentimenti condivisi. Nel frattempo, in una stanza illuminata da una luce soffusa, Brooke, con lo sguardo perso all'orizzonte, attende con palpabile ansia l'arrivo di Ridge. Il ticchettio dell'orologio pare amplificare la tensione nell'aria. Hope, cercando di offrire conforto, tenta di rassicurarla, ma ogni suo sforzo sembra vano. Deacon, con la sua tipica sicurezza, sottolinea che la sua visita all'azienda aveva l'unico scopo di elogiare la figlia per l'eccezionale lavoro svolto. La sincerità nei suoi occhi sembra irrefutabile. Nel cuore della città, in un ristorante dall'atmosfera intima, Quinn e Carter condividono dolci momenti, tra risate e sguardi languidi. L'amore che li unisce è palpabile e si promettono fedeltà eterna, brindando con bicchieri di vino rosso scuro. In un tranquillo giardino fiorito, Steffi avvicina sua madre, notando il suo sguardo distante e riflessivo. Taylor, lottando con i propri sentimenti, riesce a mascherare il tumulto interiore, evitando di svelare il segreto del bacio scambiato con Ridge. Mentre il tramonto avvolge il cielo di Los Angeles con sfumature dorate e rosse, Deacon confida a Hope una profonda convinzione. Per quanto Brooke possa tentare, il legame tra Ridge e Taylor è semplicemente indistruttibile. La potenza di tali parole rimane sospesa nell'aria, segnando la fine di una giornata intensa. Nel cuore vibrante di Los Angeles, gili ingranaggi del destino iniziano a girare in modo inaspettato. Sheila Carter, la controversa Dark Lady, sta per affrontare una serie di rivelazioni che le faranno rivivere il suo oscuro passato, ma con un colpo di scena completamente inaspettato. Mentre le luci della città si riflettono sulle strade umide, Sheila si trova di fronte a una verità sorprendente riguardo alla sua recente liberazione dal carcere. Come molte anime dannate in cerca di redenzione, anche Taylor decide di rimanere ancorata alla città degli angeli, evitando di seguire Steffi nel vecchio continente. Questa decisione sarà centrale nella difficile strada che Finn dovrà percorrere, soprattutto quando la stessa Steffi deciderà di mettere una pausa nel loro amore. Nel palazzo di cristallo che ospita Forrester Creations, le discussioni infuocate tra le sorelle Logan illuminano le stanze. Eric ha deciso di gettare il guanto di sfida a Ridge, presentando una collezione che promette di essere rivoluzionaria, e le tensioni sono palpabili. Tornando alla Carter, le sorprese non si fermano. Non solo scopre le insidie dietro la sua liberazione, ma ritrova nel suo cammino Deacon Sharp, un vecchio amore che riporta alla luce passioni sopite. La loro relazione, avvolta dal segreto e dall'adrenalina, è un gioco pericoloso, soprattutto quando Hope e Brooke sono così vicine a scoprire tutto. Un giorno, mentre il sole cala e la città sembra concedersi un momento di quiete, Deacon riceve una visita inaspettata da Sheila. Ma tutto cambia quando una visita ancora più inaspettata, quella di Hope, rischia di svelare il loro segreto. Tuttavia, il destino sembra giocare a favore di Sheila, permettendole di nascondersi giusto in tempo. L'intensità della loro conversazione rivela quanto entrambi desiderino riscattarsi, anche se per percorsi differenti. E proprio quando sembra che tutto possa tornare alla normalità, una casualità pone Sheila di fronte a una conversazione che potrebbe cambiare tutto. Deacon ha stretto un patto con il giudice che ha permesso a Sheila di tornare in libertà. Nel cuore pulsante di Los Angeles, segreti, passioni e verità nascoste, si intrecciano in una danza che promette di tenere tutti con il fiato sospeso. La domanda è, fino a quando? Il futuro è avvolto nel mistero, e gili appassionati dovranno attendere per scoprire cosa accadrà. Nel cuore palpitante della moda di Los Angeles, le tensioni sono sempre pronte a esplodere. Mentre il glitter della passerella brilla più forte che mai, le dinamiche familiari si intrecciano con le ambizioni professionali, creando un cocktail esplosivo di emozioni. Eric e Ridge sono al centro dell'attenzione. Il patriarca e il giovane RJ stanno dando vita a una collezione che si preannuncia epocale, segnando la conclusione della carriera di Eric. Ma Ridge, ignaro della battaglia che il padre sta combattendo contro l'artrosi, desidera che Eric si ritiri dalla scena. Come si può immaginare, Eric non ha alcuna intenzione di scomparire silenziosamente, e lancia una sfida audace a Ridge, una battaglia sulla passerella. Brooke, con il cuore diviso tra padre e figlio, si trova di fronte a scelte difficili. La sua sorpresa cresce quando scopre che RJ non sta appoggiando suo padre, ma si è schierato con Eric. E se ciò non fosse abbastanza, le tensioni familiari aumentano quando Katie e Donna si coinvolgono. Mentre Brooke cerca di proteggere la posizione di suo marito, Donna e Katie vedono le cose in modo diverso, onorando la storia e il contributo di Eric all'azienda. La scena si sposta poi su Taylor Hayes, una figura che promette di apportare ulteriori cambiamenti alle dinamiche già attese. Contrariamente alle previsioni, Taylor decide di restare nella città degli angeli. Sebbene il suo ruolo nella storia non sia ancora chiaro, Taylor potrebbe avere un impatto significativo sul futuro di Finn, specialmente ora che Steffi sta riflettendo lontano dalla città. La questione di Sheila Carter, un nome che ha sempre portato con sé turbolenze, potrebbe essere un altro elemento cruciale in questa intricata trama. Con Sheila di nuovo in libertà e i sospetti che gravano su Deacon e un giudice corrotto, tutto può succedere. Mentre attendiamo con ansia le prossime svolte di questa storia appassionante, sappiamo che ci attendono sorprese, emozioni e come sempre moda mozzafiato. Gli appassionati di Beautiful dovrebbero prepararsi. La prossima settimana promette scintille. A presto con nuovi aggiornamenti.